Ciao a tutti, benvenuti, benvenuti in questo nuovo video Allora, come vedrete, sto tenendo la spada, non so perché Come avete già visto Io non capisco più niente, perché Faccio così Non capisco più Vabbè, detto questo, siamo qua nella serie Come vedrete, ho la spada in diamante perché se non ho riuscito a farmela, però ho trovato dei diamanti Bene, bene, bene E come vedrete nella spada, ho trovato dei diamanti E ho già preso due diamanti da quelli che avevo trovato Ne ho già presi due subito per farmi la spada perché la mia era già finita Ma vabbè, allora, non vi faccio vedere perché ho finito il mob suoner Ma c'è comunque un problema Allora, stavo costruendo una cosa Quindi tengo la testa bassa Perché è una sorpresa, cioè la sto costruendo ancora in costruzione Ok, andiamo qua dentro Andiamoci qualche blocco Beh, ne ho tanti, quindi si può tanto lasciarli qua Prendiamoci questo Ok, così andare Sono andato nella strada giusta, mi sembra Ma qua l'ho poi trovato Ah, ok, adesso è la Mi sembra che la Ah, no, è Ah, ho sbagliato strada È a sinistra No, ma è vero, è strano Poi qua bisogna andare Mi sono perso Ho trovato i diamanti Però l'ho fatto una strada strana Molto strana Forse la qua Non lo so Non ho la più palida idea Qua sì, mi ricordo che c'era questo coso Ma L'avevo esplorato per un po' Ma Niente Non ne ho trovato niente Mi sembra Qua non ne ho esplorato Poi sono andato giù di qua E Eh, dovrebbe essere qua Eh sì, è qua, è qua Allora, io da qua ho visto un diamantino Un bel diamantino Che vorrei subito andare a esplorare Allora, ho un sacchio d'acqua Molto bene Sono venuto equipaggiato per una volta Andiamo subito Andiamo a prendere un po' di mangiare Ok, possiamo Magari anche piazzare un po' di torce Odio Odio, odio, odio Uh Ok, la vedo già un diamante Sono molto contento Ok, vediamo se c'è sotto Dove è? Eccolo Vediamo se c'è sotto l'ava Uh, due! Oh mamma mia, che fortuna Pronti per vedere? Oh no Tre! No! Uno No, no, è impossibile Cos'è? Ma cos'è? Cinque, giusto? Sì, ok No, ho avuto una fortuna Veramente di quelle Mamma mia, cioè Sei diamanti, sei! Oh, sei! Vorrei solo Non togliere E voglio anche togliere Questa Acqua 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 Che Acqua qua Che mi dà fastidio Intanto c'è C'è un motorino Che passa via Io non capisco Quelli lì Che fanno i punti Velocissimi Cioè Io ci ho provato Devo dire Però Non ho avuto successo Ancora più in su Ok Uhlala Ero proprio sul buendino Ok Cosa sto facendo Non lo so Ok Mettiamo Un bel Bucco E noi ci possiamo Andrò a buttare Qua Qua Devo dire Che potrei Anche Coprire Vabbè Più di così Non Non trovo Che ha senso Vabbè Sì Facciamo Una bella Copertura Ho fatto bene A prendere Qualche Qualche Prendiamo Che questa Sì Questa Ce la posso anche fare Dopo ovviamente Prendo ancora Il 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 Ferro Perché è molto utile Spianiamo anche qua Con l'acqua Una bella botta Non ci fa mai male Così almeno C'è Così abbiamo Tutta la cosa Spiamata Ok Qua c'è Del Ferro Giusto Ok Cominciamo Ancora Cioè Non cambia Niente Ovvio Però Non è sempre Non succedeva Niente Prendiamo Quello Cos'è Cos'è Ma C'è Su chi c'è qualcosa Ma è impossibile Ma Ma è stranissimo Cioè Ma Non so C'è Sì Vabbè No 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 Ma che Cos'è Lina dei diamanti Tredici Sì 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 Questa redstone Si può più che accettarla Perché Se ne trovo Se ne trova comunque tanta di redstone Però i diamanti trovo che non ho senso Cioè Meno che c'è qualcuno Ma Scusate Io Cioè Scusate Ah è vero È vero È vero Cavolo Penso È vero L'altro giorno Prende stavo giocando sulla serie Perché stavo trovando i diamanti Cioè Stavo andando a scavare E A un certo punto Vedo che qualcuno si è collegato Alla partita Oh Eh Vedo che qualcuno si è collegato Alla partita Però Aveva tipo Con la F il nome Non so che nome era Però Era comunque Della partita locale Non Non so di chi si tratta Però Comunque Perché Voglio fare un test Così A vedere se qualcuno si collegava E si è collegato Qualcuno Scusate E E E Praticamente Quando quella persona Si è Collegata Io Avevo fatto Che C'era la modalità Che si poteva E Voglio Cerco C'è Che si poteva andare in creato Oh Smeraldo Ah si è vero L'altro giorno Quando ho fatto Una piccola Perlustrazione Ho trovato anche Altri Smeraldi Quindi Non per coprire Ma mi piacerebbe Anche a me Fare Un po' come Stepney Fare un po' come L'obiettivo Di fare Tutti i blocchi Quindi 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 Il blocco Di diamante Non so Resto Reston Che noio Posizionare Però Però Prima Si era posizionata Anche lì Non so Come Misteri Di minecraft Ok Posizionare Qualche blocco E dopo Posso finire Qua l'episodio Poi andrò A fare A fare Un piccolo Di diamante Di diamante Per poi Uh Smeraldo Ah Però È una bella In cima Non so Come fare A dire Perché Non si toglie Quest'acqua Non mi piace C'è mance Allora Pronti? Ok No 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 Allora Io ci rinuncio Ma È meglio Meglio rinunciarci Mettiamo Una bella Sbara Di non andare Poi andiamo A questo Sì Poi andiamo A questo Bel fermecino Uh Ma anche prima L'avevo trovato In questa Cioè Nella stessa Quale Disposizione Però ci sono rimasto Veramente scioccato Eh Quindi 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 No Anzi Concludo l'episodio Facendomi il piccone Di diamante Cioè Se non Specifichi Comunque Volevo dire una cosa Due cose Il nome Di iPhone03 Era per un testo Appena posso Perché mi dice sempre Modifica troppo recente Mi sa che Ok No è qua Ok Abbiamo giocato la storia di casa Mi dice sempre Modifica troppo recente Modifica troppo recente Bla 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 Mi sono stupato E Comunque MecaJ Il nome Non so perché Si è bloccato Sì ma sei già Scusa Che ci testi a caso Non so come E Quando potrò Quando riuscirò Rimetterò MecaJ Perché Perché non mi piace Questo Comunque Devo dire una cosa Gli scheletri Sono proprio Letali Via da qua Anche i creeper Mi sembra che Esplodono Da più vicino Se andiamo A vedere Uno scheletro Aspettate Mi faccio vedere Uno scheletro Quanto è diventato Molto più letale Aspettate A me sembra che Adesso non so più vita Agli zombie Agli scheletri Non c'è uno scheletro No Niente Un altro pezzo Di cacca Dai muori Ma Come fa A non morire Bravo Finalmente Era ora Non abbiamo Inventato A pieno Ma che bello Sì Ma che bello Anche sputare La spada In diamante Dove sono Gli scheletri Voglio uno scheletro Tu non c'entri Tu non sei Uno scheletro Oh Mi è andato Uno scheletro Boh Non c'è Ah Eccolo Eccolo Prima dobbiamo mangiare No Cosa Cosa Oh Oh Mi ha beccato Lo scheletro Lo scheletro Ha ucciso Lo zombie Venite Qua Che Vi faccio Niente Dai Venite Vecce Vecce No Ma non voglio Finirlo subito Adesso No Allora Andiamola Ci facciamo Piccone Poi ci Vuoi salutare Ok Ok E Mangiamola Comunque Adesso Ho comunque Pochi cuori Me lo faccio Poi vedere Nel prossimo episodio Perché Adesso Devo fare Piccone Questo Peneletto Piccone Che non so Da quanto Sto registrando Ma da Tanto Sì Da tanto Devo fare Il piccone Ok Andiamo qua Per craftarci Che non ho neanche un crafting Perché quando io faccio le cose Le faccio troppo di fretta Ok Abbiamo legna No Quindi posiamo qua Tante cose Ah Non c'è niente Ce l'ho Ah sì Avevo L'ho fatto Sì L'ho fatto Oro Sì L'ho trovato Otto Sì Ok E Ah sì Ho scoperto Come si fanno Le ali E Sono soddisfatto Cioè Non capisco Cosa servono Cioè Perché Su qua Avviene tantissimi polli E Mi sono fatto Le ali Però non so Cosa serve Cioè Se guardate Ho le ali Ma Come si usano E questa è la mia domanda Vabbè Cioè Sto Sto dimenticando Proprio L'obiettivo Più Più Importante Di tutti Cioè Ok Allora Cos'è che ci servirebbe Sì Bravo te Aspetta che faccio Ecco Mettiamo poi qua Nella cesta E poi ci possiamo fare La cosa Più letale Piccola in diamante Vediamo quanto spacca Devo dire No Queste non servono Non possiamo tanto Mettere via Allora vediamo 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 Ok Spacca abbastanza Veloce Che questa base Comincia A non più Piacermi Vabbè Ok Andiamo fuori Cioè Andiamo fuori Non è che avrebbe Molto senso Perché Ah no È giorno Non si sa come È diventato È giorno Ok ragazzi Il video si conclude Qua Vi ricordi Di mettere Dei bimbi Che ci sono già fatto Di iscrivervi al canale Anche quello Se non è già fatto E noi ci vediamo Nel prossimo video Bene ragazzi